E ora la pagina sportiva che si intreccia però purtroppo con le vicende legate al covid perché ci sono sviluppi e li abbiamo documentati circa mezz'ora fa dando la notizia in anteprima sul nostro sito www.reteotto.it confermata l'indiscrezione delle ultime ore anche con l'atto ufficiale. Il Pescara si ferma per ordine, per disposizione dell'ASL. Le ultimissime con Massimo Profeta di studio, allora Massimo ricapitoliamo cosa è accaduto. Cosa è accaduto? Intanto c'è questo provvedimento importante che era atteso del resto come dicevi tu, stop delle attività della Pescara Calcio dal 12 aprile, quindi la decorrenza dal 12 aprile al 26, sono 14 giorni di interruzione. Che cosa succederà in questo lasso di tempo? Naturalmente i positivi dovranno essere isolati e quindi anche contatti stretti, mentre tutti coloro che sono negativi, parliamo quindi dei giocatori, potranno allenarsi ma solo individualmente. Quindi allenamenti non di gruppo ma individuali. Il Pescara dovrà recuperare tre partite, che sono tre partite di indubbia rilevanza, fondamentali per le speranze play out contro l'Entella. Si sarebbe dovuto giocare sabato all'Adriatico, poi martedì 20 con il Cosenza, non si giocherà naturalmente al San Vito Marulla, e sabato 24 aprile ancora in casa con la Reggiana. Noi abbiamo ipotizzato delle date di recupero, allora la partita con l'Entella potrebbe giocarsi martedì 27 aprile, la partita col Cosenza martedì 4 maggio, e punto interrogativo per quanto riguarda il match interno con la Reggiana. Perché i nostri amici in visione d'ascolto ricorderanno che il campionato di Serie B terminerà la stagione regolare il venerdì 7 maggio, quindi a questo punto ci sarebbe un problema. Slitta l'ultima giornata per consentire al Pescara di recuperare il match con la Reggiana, oppure questa partita sarà posticipata dopo la fine della stagione regolare? Questo è un grande punto interrogativo Carmine, vedremo quello che accadrà. Alle ore 14 è partita ufficialmente la PEC dal dottor Ildo Polidoro, che è responsabile appunto di questo servizio della ASL di Pescara, verso la Pescara Calcio. E appunto il provvedimento è quello che tu ci hai illustrato Massimo, ma nel pomeriggio potrebbero esserci ulteriori novità, che comunicheremo ovviamente con la dovuta tempestività, circa la qualità, tra virgolette, del contagio che si è diffuso in questo fuoco biancazzurro. E si attendono anche ulteriori tamponi nelle prossime ore? Assolutamente, i tamponi saranno ripetuti ogni due giorni, domani ci sarà un altro giro di tamponi, come dicevi tu la variante, se è variante, però presumiamo che sia una variante, perché i giorni di stop sono 14, dobbiamo capire che tipo di variante è, però un fatto è certo, il Pescara dovrà interrompere le sue attività per 14 giorni. Domani un ulteriore giro di tamponi, che sarà ripetuto domenica prossima, quindi ogni due giorni, sperando che non cresca però il numero dei positivi, perché questa è un'altra cosa importante da sottolineare, prima di tutte, prima di ogni cosa la salute, questo è poco ma sicuro. Sappiamo che i positivi del Pescara, 7 giocatori più un membro del gruppo staff stanno bene, non ci sono state controindicazioni, se possiamo usare questo termine, quindi questa è la cosa più importante, però l'augurio, l'ospicio è che non cresca il numero dei positivi. Leggeremo nel merito poi quali sono le motivazioni del provvedimento del dottor Povidoro, perché sono molto importanti, in quanto sappiamo che c'è stato il presidente di Juventus-Napoli, ci sono rischi circa impugnative, che potrebbero fare riferimento alla regolarità di un campionato che adesso si sta decidendo proprio attraverso anche queste partite. Massimo, qual è lo scenario che si apre? Soprattutto sarà importante capire se l'estrema contagiosità di queste varianti possa rendere inattaccabile il provvedimento dell'Ase da parte di altre giurisdizioni. Esatto, esatto, lo scenario è difficile da prevedere quello che potrà accadere, però è chiaro che si parla anche di probabili ricorsi, speriamo di no, meglio o peggio questa interruzione. Ecco, io dico che è difficile anche rispondere a questa domanda, perché se noi prendiamo in esame le ultime tre partite, giocate dai biancazzurri, Grassodonia ha trovato una quadra e sinceramente fermarsi adesso sul più bello probabilmente non è la cosa migliore. E quindi anche questa è una domanda difficile a cui rispondere, io mi sento di dire che adesso il pescato dovrà svolgere solo allenamenti individuali, non di gruppo, così dice la disposizione, e quindi secondo me questo è un problema. Vedremo, vedremo. La speranza è naturalmente la tutela della salute degli atleti, è che è la prima cosa.